musica quindi non chiedetemi oppure scrivete participe Xbox 360 perché verrete praticamente automaticamente squalificati quindi è inutile che lo scrivete Xbox 360 quindi se avete PS3, PS4 Xbox One potete partecipare a questo contest io come al solito raga prima di iniziare volevo invitarvi a guardare la descrizione perché troverete raga la mia pagina Facebook, il profilo Facebook se siete interessati ad account moddato e ovviamente a pagamento potete chiedere benissimo a me comprenderà tutto, rango, soldi, tutto sbloccato e così via quindi tranquillamente se avete bisogno appunto di un account moddato per PS3, PS4 Xbox One e PC non esitate a contattarmi trovate il link del profilo Facebook o della pagina Facebook in descrizione quindi a seconda di dove volete contattarmi quindi nulla passiamo raga subito al contest, le regole per partecipare a questo contest quindi appunto gli step da fare per partecipare a questo contest sono lasciare un like a questo video, iscriversi al mio secondo canale che trovate giù il link in descrizione e appunto mettere like alla pagina di Facebook che trovate giù il link in descrizione e commentare qui sotto scrivendo partecipo aggiungendo la vostra console e il nome e cognome di Facebook quindi un esempio se avete PS4 voi dovete scrivere partecipo PS4 ed il nome Facebook quindi che ne so ciao tizio un esempio a caso voi del vostro nome e cognome di Facebook e così via per PS3 ed Xbox One quindi raga questi sono praticamente gli step molto semplici chi non eseguirà questi step perché poi io mi assicurerò che avrà fatto questi step in caso trova appunto che questa persona ovvero il vincitore appunto non avrà seguito questi step sarà automaticamente squalificata quindi automaticamente squalificato per quanto riguarda invece i vincitori saranno tre ragazzi però potranno vincere solamente un account moddato quindi ci sarà la possibilità di vincere un account moddato però i partecipanti potranno cioè scusate i vincitori appunto saranno tre quindi avete appunto più possibilità appunto di vincere questo account moddato quindi nulla spero che questo contest raga vi piaccia quindi vi sia piaciuto in tal caso vi ricordo di lasciare questo video per supportarmi e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video passate un'altra pagina Facebook nel profilo di Instagram che trovate giù il link in descrizione quindi nulla noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da Foxound bella